La civiltà di un popolo, ho detto, si misura anche da come vengono trattati i propri defunti e il culto dei propri defunti. Cita Foscolo e i suoi sepolcri, il sindaco di Cassola, in occasione dell'inaugurazione del restaurato Cimitero di San Zeno. 87 nuovi loculi, due tombe di famiglia sarcofago, 6 cappelle gentilizzi e 150 ossari, dove è stata ricavata una nuova area per le tombe a inumazione. È un'opera importante per la comunità, mi piace però ricordare anche l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'area vecchia di questo cimitero. Quindi tutto l'intero Camposanto è fruibile a chiunque. Esattamente, oggi chiunque anche in sedia a rotelle può recarsi a trovare i propri cari, i propri defunti. 100.000 euro il costo dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, con la creazione di percorsi pedonali ad hoc e nuove rampe nell'ottica di maggiore accessibilità, cui si sono aggiunti altri 700.000 euro per la parte nuova, di cui 90.000 da finanziamento regionale e 610.000 da mutuo con la Cassa Repositi e Prestiti.